Miss Bloomie e Miss Seacole stavano andando in gita scolastica e hanno avuto un incidente. Vecchi amici arcobaleno sono noiosi. Abbiamo bisogno di qualcosa come loro. Bambini, entrate! Wow, sono il primo. Ciano o rosso. Due occhi o uno. Due ovviamente. Bello. Testa di banana o normale. Wow. Prossimo denti o un dente. Un sacco di denti. Bello. Scia blu o nessuna scia. Lingua lunga o cuore. Cosa? Dovrebbe essere lungo. Bru. E l'ultimo. Coda o spine. Coda. Usciamo. Sono il prossimo. Gambe o ali. Ali. Wow. Occhiali da sole o occhi. Occhi ovviamente. Che diavolo. Prossimo elica di elicottero o la cosa. Elica. Wow. Testa di uomo o testa di gecko. Gecko. Wow. Giallo o rosa. Giallo. Wow. Sono giallo. Sono il prossimo. Cosa diventerò? Sedia del re. Wow. Sono il re. Corona o cappello. Smetti di cappello. Oh my god. Solo corona. Un odio o caramella. Prossimo. Nubo o acqua dalla bocca. Acqua. Ok. E prossimo. Blu o cacca. Blu. Sono pronto. Sono il prossimo. Gambe da ragazza o dottore. Gambe da dottore. Figo. Cosa è questo? Sto scegliendo questo. Figo. Testa rossa o faccia felice. Testa rossa. Bru. Non posso vedere, non ho occhi. Wow. Prossimo cravatta o scarpe. Cravatta. Pistola o questa cosa. Questo. Ok, andiamo. Sono il prossimo. Ratto o testa. Testa. Bello. Seconda testa o uccello. OMG. Testa o cacca. Terza testa. Quarta testa. Wow. E ora. Occhi o colorato. Entrambi. Bello e ora gli occhi. Bello. E l'ultimo. Carrello. Sono il prossimo. Dottore. Capelli bianchi o normali. Bello. Barba o barba. Questo. Bello. Occhiali o no. Occhiali. Camicia. Oddio. Mancano solo i pantaloni. Sono pronto. Ok, sono il prossimo. Verde. Denti o dente. Dente. Forse denti. Lingua o no lingua. Occhi piccoli o grandi. Questa trama. Verde. E corpo lungo. Oh my god. Occhi grandi o piccoli. Grandi ovviamente. Prossimo viola o giallo. Viola. Braccia lunghe o corte. Lunghe. Wow. Gambe lunghe o corte. Lunghe. Wow. Molti denti o un dente. Molti. Wow, sono perfetto. Sono l'ultimo. E ero nel capitolo 2. Quindi prima testa di Gekko. Oh cane. Gekko, cos'è questo? Occhi grandi. Coda verde o arancione. Arancione. Arancione o viola. Arancione. Pelo arancione. E ultimo grandi denti. Wow. Ok, siete tutti pronti e ora facciamo fuori alcuni di voi. Baby blue. Il prossimo. Giallo. Ma vecchio. Teste nel carrello. Sapete una cosa. È ora del mio preferito. È ora per l'amico rosso. Prossimo amico arancione. Giallo. Ok, ora è il momento per i ragazzi più grandi. Blu sulla sedia. Wow, quindi ora. Viola. Sei così alto. Fa male. E l'ultimo. Verde. Non mi piaci. Tu e tu. Ma tutti voi andate al capitolo 2. Aspetta. Tu e la tua squadra siete arrestati. E ora sarete tutti valutati. Iniziamo con te omg. Prima di essere ciano è arancione ma l'amico rosso lo ha cambiato. Ah, cambiamo te. Bello. Questo è buono per me. Ha mangiato l'amico verde e poi lo ha vomitato. Giorno normale negli amici al copalino. Ah, ho fame. Per favore no. Giorno dopo. Giorno. Eh, va bene. Get him out. This is gross. Qui. Qui. Get up. You okay? Giorno. 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 Mg hanno un lato così forte devi essere spaventoso. Ti stava inseguendo sul gokart. La sua nascita alla morte è stata molto triste. Ok, era strano. Stava cacando ovunque sulla mappa ed era disgustoso. Cosa sta succedendo? Sto solo facendo la cacca. Aveva una famiglia che lo aiutava. Mostrami la tua famiglia. Guarda dietro di te. Dolce. Per me sei una brava persona e vai al bene. Lanciava persone da un'altezza di 100 metri dal suolo. Non saldare finché non trovi un posto sicuro dove atterrare. Wow è stato molto brutto. Aveva dei bambini nel suo nido che erano suoi figli. Wow penso che sia il momento. I miei bellissimi bambini. Può gliciare e portarti fuori dalla mappa al nuovo capitolo. Ha rapito tutti gli amici arcobaleno nel suo nido e li ha mangiati. Aspetta cosa? Cosa stanno facendo Bru? Distruggiamoli. Ah facile. Che diavolo? Porta i giocatori nel suo nido e li spaventa. Wow bello spavento. Ma sei cattivo. Dovevi raccoglierli tutti ma poi hanno creato un nuovo mostro. Siete tutti raccolti quindi cambia in mostro. Che diavolo? Stavano diventando ultra grandi e volevano cambiare la città. Aspetta. Che cos'è questo? OMG. Questa è un'apocalisse. Erano ovunque e non potevi muoverti. Per me sei la peggiore persona. Ciao. Ora per il prossimo. Era una persona normale ma lo hanno cambiato. Wow. Era la tua vera faccia. È stato trasformato in un supereroe e ha iniziato a combattere con il giardino di Bambam. Ragazzi mettete mi piace e iscrivetevi e vi sveglierete con uno miliardo di rogs. C'è successo più di quanto sia successo nella mia intera vita. Si è seduto sulla sedia del re e ha fatto risorgere un esercito di amici blu. Siete il mio esercito. Conquisteremo il mondo. Wow incredibile. Si è seduto sulla sedia del re ed è morto perché era inutile. Sono. Il mi sei buono. Ha trasformato i bambini in amici arcobaleno prima di diventare un mostro. OMG bro. Questo è male. Si è accidentalmente trasformato in un mostro. Che diavolo. Ha mostrato le facce di ogni nuovo e vecchio amico arcobaleno e tutti l'hanno vista. Ok vediamo il tuo volto. No per favore. Cosa? Bello. Prossimo arancione. Prossimo blu. Ancora. Prossimo verde. Vediamo. Celo spezia. Pensavi che ti stessi sentendo. Prossimo rosso. Bruscello. Perché? Stavo solo facendo un video. Prossimo. Tante teste. Cosa? Nonno. Eri teste per tutto questo tempo. Allora prossimo viola. Amico. Kaizenat ti ama. Amico rosa. E ultimo ma non meno importante. Ok prossimo. Ha rubato i colori da ogni ragazza amica arcobaleno. La sua ragazza ha perso i suoi colori e lui ha sacrificato i suoi colori per salvarla. Amico. Ma non è il mio sole. Wait. Thank you. OMG. Era bellissimo. Rosso vai al bene. Prossimo. Quando era più giovane non poteva smettere di crescere nel sonno e poi si è trasformato in un amico viola. Buonanotte figlio. Buonanotte mamma. Non mi sento molto bene. Figlio. Cosa sta succedendo? OMG. Wow eri un bambino strano. Ma va bene. Era nel condotto dell'aria ma qualcuno lo ha rubato e cambiato. OMG spaventoso. Dopo il cambiamento stava catturando persone dall'acqua nel nuovo capitolo. Wow è figo. Qualcuno lo ha messo nel water ed era bloccato lì. Che diavolo. Dopo che un ragazzo lo ha aiutato è diventato famoso. Wow bene per loro. Aveva braccia così lunghe che rapiva le persone dall'altra parte della mappa. Questa è un'abilità molto buona. Per me sei buono. Aspetta dove è il prossimo. Vediamo cosa hai fatto. Ti faceva prendere un colpo di paura quando andavi nella direzione sbagliata in carta. Wow ok prossimo. Ha creato una stanza segreta nel pavimento. Aspetta quale stanza segreta. Hai installato Acre ed era troppo veloce. Sono troppo lento. Ho bisogno di girare Acre. Ha mangiato i due e tutti hanno visto quello. Hai mangiato i due cosa. Grazie per avermi ricordato che è ora di cena. Era male. Mangiava troppo ed è esploso. Questo cibo è così buono. Aspetta non mi sento così bene. Per me sei una persona cattiva mi dispiace. Prossimo. È diventato troppo grande ed era più grande della mappa. Cos'era questo omg? Ha distrutto accidentalmente la ruota panoramica. Wow questa è accesa. La sua danza era accesa. Mostrami. Ha scaricato Acre ed era troppo alto. Ok bro. Non tutto andava bene. Ma nel complesso sei una buona persona. Ok prossimo. Nonno. Era il papà degli amici arcobaleno. Ha preso un colpo in testa e si è incastrato sulle montagne mosse. Wow. Era una buona scena. L'amico giallo lo ha portato nel suo nido e ha cercato di mangiarlo ma il nonno lo ha ucciso. L'amico giallo mi ha rapito qui. È ora di vendicarsi. Va bene. Mi sei un buon nonno. Ok. Ora per il prossimo. Tamataki. Stava giocando con gli amici arcobaleno ed è stato preso dal giallo. Omg sei un originale. Ha provato a spaventare gli amici arcobaleno ma ha avuto uno spavento e è morto. Ti ucciderò. Vieni. Ah prendi la L. Facile. È stato tagliato a metà dall'amico rosso e poi gli ha aggiunto una nuova testa. Tamataki. Sei troppo dolce. Andare al bene. Si sono uniti agli amici arcobaleno e hanno avuto un colpo di paura. Omg. Strano. Sono tutti morti a causa loro. Hanno fatto una lotta di spaventi e il giardino di Bambana è morto. Ok ragazzi. Gli amici arcobaleno sono migliori. Mi dispiace. E penso che l'ultimo sia qui. O a box omg. Erano bambini che cantavano prima ma si sono trasformati in mostri. Ah questi ragazzi sono incredibili. Ora li cambierò. Hanno iniziato a cantare una canzone che ha distrutto gli amici arcobaleno. Ok ragazzi è stato fantastico. Grazie e bye al bene. Ed è tutto. Guarda fino alla fine per vedere la quinta evoluzione lampo dell'amico arcobaleno. Fratelli. Sì. Dobbiamo entrare in questo pacco giochi e scivolare dalla diapositiva estrema. Controlla prima la tua altezza. Facile. Non puoi andare. Omg. Bene. Io accanto. Vai. Ottimo. Iai. È così triste e non poter divertirsi con loro. Oh ragazzo incondotto. I don't know. Looks kind of suspect. Hai qualcuno mi ha colpito. Oh primo ragazzo. Devi usare il nostro parco giochi. Aspetta un attimo. Scegli uno. Voglio il verde. Andiamo. Scivolo. Divertiti a... Dove sono? Faccia da anatra o piccoli? Oh no. Odio i cetrioli sott'aceto. Non è divertente. Inferno o alto? Alto. Non è buono. Vecchio o giovane? Giovane. Sono un brutto bambino. Sbalzo. Sono troppo spaventoso. Fuoco o essere buono? Buono. No. Voglio essere buono colpa mia. Non cattivo. Cosa mi hai fatto? Ah, questo è solo il tuo primo livello. Fammi entrare. Vai. Fratelli. Fratello. 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 Mi avete lasciato prima del tempo per la punizione. Ragazzi, volete scivolare? Come cosa? Questo non sembra buono. Non mi interessa. No. Ah. Dove sono? Slime. Oh no, ho dell'acqua in bocca. Sono la regina. Blu o verde? 100% blu. Wow, sembro blu. Grande o piccolo? Grande. Nessuna differenza. Pericoloso o no? Pericoloso. Non voglio sembrare così. Carino o brutto? Brutto. Carino. Tempo di teletrasporto. Sì, Shrek. Denti di squalo. Arancione o senza occhi. 100% arancione. Aiutami. La mia testa. Mani di Gekko. O faccia spaventosa. Gekko. Abbaio. Lava o acqua? Lava. Ok, sembro spaventoso. Roblox o mani? Mani. Wow, wow. Grassoccio o magro? Cosa è questo? No. Occhi grandi. I miei occhi vedono tutto. Oh my god. Viola o blu? Viola. Mi piace. Mani lunghe. E gambe lunghe. Ok. L'ultimo. Vivi nelle fogne o in un McDonald's. Fon. Andiamo. Oh no, ci ha cambiato per sempre. Mamma. Mamma. Oddio. Che cos'è questo? Ci cambia. Sì. Sembri brutto. Dove sono i nostri figli? Dieci anni dopo. Primo giorno di scuola. Ah, sembrano strani. Cosa? No, per favore. Per favore no. No. Per favore. È ora di passare al secondo livello AA. Andiamo. Sento qualcosa. A ora che? Wow, è stato pazzesco. Dobbiamo arrivare al livello successivo. Aspetta. Se volete il prossimo livello dovete trovare le porte. Oddio. Lo troverò io per primo. Eccoli qui. Entriamo. Sto avendo problemi. È stata una cattiva idea. Muscoli grandi o capelli di Chad. Muscoli. Gambe lunghe o testa grande. Gambe lunghe. Forte. Forte. Sono troppo grande. Essere un Gigachad o avere la mano più grande. Gigachad. Aiutami. Denti affilati o grasso. Sono troppo forte. Devo essere grasso. Grande cervello. Sono in forma. È il mio turno. Penso che sia qui da qualche parte. Mi dispiace. Eccoli qui. Aspetta. Questi non sono i miei. Muoviti dal mio cammino. Tempo di entrare. Eccoli qui. Oh no. È ora di entrare. Sono pronto. Ah sei l'unico noob che non ha avuto l'evoluzione. Non riesco a trovarlo. Meglio fare presto. Agli fratelli. Aspetta vedo. Eccoli qui. Ah ora che. Metti mi piace e iscriviti e domani ti sveglierai con così tanti Robux. Oh no. Oh no. Oh no. Ehi. Cosa sta succedendo? Insegnante. Mi dispiace. Vieni alla lezione. Adesso. Ok. Ti diamo A e o ti caccio dalla scuola. Figlio. Vieni prima. Ciao papà. Era estremamente intelligente. Wow. Odiava gli studenti stupidi. Are you serious right now? Figliolo. Chi pensi che sia stupido? Loro. Bravo ragazzo. A e. Amava suo padre perché gli dava A e tutti i giorni. Questo è così dolce. Prendi questo A e. Grazie papà. È stato trattato meglio perché suo padre è un insegnante. I am better. Non è vero. Io ti tratto allo stesso modo. A e. Ok. È il momento della parte negativa. Aveva la rabbia. Aspetta cosa. Cosa mi hai fatto? Cattivo. Era sempre il più alto nella stanza. Oh my god. Io sono il più alto. No io. Non puoi essere più alto di me. Cattivo. La sua ultima evoluzione sarà la cosa più spaventosa che abbiate mai visto. Mostrami. Non posso. Ma posso spaventare? No. Mi hai spaventato. Ti caccio dalla scuola. Ah. Chi è il prossimo? Per favore non io. Vieni blu. Era disgustoso e le ragazze scappavano da lui. Ciao ragazze. Brutto. Tu. Smettila di spaventare le nostre studentesse. Cattivo. Il suo alito uccide le persone. Mostrami. Disgustoso. Non sa leggere. Il suo cervello è piccolissimo. Ah che cervello piccolo. Calcio. Ne sono rimasti solo due. È il più veloce della scuola. Fammi vedere. Ok. È davvero veloce. Bene. Mi piace a E. Grazie. I suoi voti sono FFFF e F. Bravo. Per questo motivo. Devo darvi un calcio. È diventato un bullo dopo essere stato vittima di bullismo. Oh no. È troppo. Calcio. Ultimo. Sembri un nerd. Mi dispiace. Mi dispiace. Fermati per favore. Era estremamente solo. Era estremamente stupido. Oh my god. Non piaceva a nessuno e non aveva amici. Calcio. Aspetta perché. E siamo chiusi. Il poliziotto sta dormendo. È ora di uscire. È vero. Chiave. Tempo di aprire. Sono scappato. Trova il mio adesso per favore. Ok. Oh no. Sta dormendo. Tornate indietro. Ma... Apri velocemente. Sì. Sono due rimasti. Non scapperai dal carcere. Oh no. Sta arrivando. Ehi. Ecco la chiave. Fermati adesso. Criminale. Ok. Calma. Ah. Ti ho preso. Salto di popcat. Ok. Usciamo. Ok. L'ultimo. Dove è la mia chiave? En. Guarda nei luoti. Bro. Usciamo. Ah. È tempo per il prossimo livello. Ok. Siamo grandi. Ma come possiamo ottenere la prossima evoluzione? En. Cos'è questo? Se vuoi una nuova evoluzione devi raccogliere tutte le mascotte. Sono davvero difficili da trovare. In bocca al lupo. Aspetta un attimo. Aspetta cosa? È il momento di trovare tutte le mascotte. Vieni da papà. Ah. Sembrano strani. Oh. Ho dolore ma l'ho presa. OMG. Vogliamo questa evoluzione. Qui. Sono troppo grande. Un'ora dopo. Finalmente. Finalmente. Ok andiamo. Qui. L'ho preso. Oh mio dio la mia evoluzione è spaventosa. Oh mio dio eccolo qui. Se vuoi combattere contro di me. Facile. Wow. Ok. Ho la sfida più difficile. Ah noob non hai l'evoluzione. Ah noob non hai l'evoluzione. Ah non hai l'evoluzione. Ehi. Fermati. Wow. Prendilo. Ehi. Prendilo. Mai. Come? Come? È facile. Salta semplicemente. Ah. Facile. E l'ultimo salto. Wow. Sembro fantastico. Il giorno dopo. Creature selvagge stanno distruggendo Brookhaven RP. Sì la polizia dovrebbe fare qualcosa. Quindi non uscire. Ehi. Dovremmo divertirci sul parco giochi. Sivolo. Sei arrestato. Cosa? Il giorno dopo. Ok. È il momento di giudicarvi. Stava catturando le persone alle porte e poi le distruggeva. Stava schierando mostri dalle sue porte per uccidere le persone. Wow. Ha preso mille anni di carcere e poi è fuggito. Are you serious right now bro? Ok. Per me è disgustoso. Rosso. No per favore. Ah. È il tuo turno. OMG sei così grande. Erano controllati dal dottore. Sono fuggiti dal carcere trovando tutte le chiavi. Yeah. Sono diventati da neonati a mutanti. Ok. Il mio verdetto è. Devi trovare l'amico rosso e distruggerlo per quello che ti ha fatto. Cosa? Grazie. Dammi i tuoi figli. No. Lo sento. Il giorno dopo. Finalmente ti ho trovato. E ragazzo. Ti adotterò. Misuriamo. Sei quasi come una modella. Faremo un sacco di soldi da te. Guarda cosa ho trovato. Cos'è questo? No 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 no. Non riesco a respirare. Prenditi cura di lui. Vai Appagretai. Sorella. Ti odio. Cosa? Sono nella sabbia. Aiuto. Questo. No per favore. È il mio incubo. Ciao. È troppo. No per favore. Nua non sarai mai alto come me. Non so nuotare. Tocco a me. Aiutami. Non ho ossigeno. Oh my God. Lo squalo sta arrivando. Ah! Dove è mio figlio? Basso noob. Dobbiamo fare un'operazione in fretta. Morirà. Non mollare. Stanno facendo l'operazione. Cos'è questo? Noob. Wow spaventoso o carino? Carino. Oh no no no. Sono spaventoso e brutto. Sta morendo. Magro o grasso? Magro. Lingua lunga. Guarda mi sto peggiorando. Denti paurosi. Bello. Calvo. Occhi. Un occhio. Sembro disgustoso. Mamma sono tornato. Stai diventando più alto. Stai diventando più alto. Quasi morto. Misurati. Sei brutto. Cinque anni. Ah sono vecchio. Tempo di trollare. Happy. Il prossimo è l'orso. Oh my god. Cosa è successo? Sentò qualcuno. Oh no. Mi dispiace. Stai andando al riformatorio. No per favore sorella. Ah ciao. Sfigato. Mio dio non sembra male. Ah così debole. Oh my god. Forse no. Ciao. Sfigato. 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 Oh no. Ah. Get over here. And coming. Non so nuotare. Aiuto. Ti annegheremo. Oh no. Em dove sono? Stanze nascoste? Mio dio. Devo nascondermi. Tempo di mangiare. No. Em. Devo uscire. Mangiami sono debole comunque. Non posso aiutarti. Cosa? Sei tornato. Sì. Iscriviti e metti mi piace se vuoi Robux gratis. No. God. No. Meanwhile. Torneo per il miglior modello. Oh my god. Non può essere così. Ah perdenti. Adesso mamma. Ah ho vinto. Salta oltre questo per essere più alto. Sì. Andiamo. Wow. Bello. Bello. Wow wow wow. Cosa sta facendo? Non può essere così. Ragazzi andiamo. Vieni qui. Vieni qui. Sarò più alto di te. Arg no. Hai perso il razzo. E' pazza. Nu capo. Ah. Non mollare Popcat. Va bene capo. Oh my god. Nu. Ah. Andiamo. Cos'è questo? Oh my god. Oh my god. L'ultimo. Oh my god. Nani? Wow. Sorella dove sei? Perché? Ah. Non può essere così? 15 anni. Ho perso le gambe. Sei ancora piccolo. Ma ero alto. Sta mentendo. Non lo sono. Stai andando in prigione. Non ti vogliamo più. Torna se sei più alto. No per favore. Ah piccolo prigioniero. Nu. 25 anni. Non mi batterai mai. Piccolo. Facciamo un torneo. Ok. Tempo di saltare. Oh my god. Ah sono più alto di te. Cosa? Ehi. Oh my god. Oh no. Yes. Cos'è questo? Questo torneo è solo per quattro persone. Ciao. Wait a minute. Ehi. Abbarato. Non mi interessa. Inizio. L'ho preso. Ahi. Prossimo difficile. Prima io. Ah. Ora cosa? Cosa? Ah. Grazie per il bust. Oh my god. Ah. superare la linea attraversare la linea no ho vinto a cosa perché non ci posso credere non può essere così oh no l'ho ucciso dove sono dio ciao pocca o mio dio ciao stava aiutando la madre malata ha mangiato il suo migliore amico questo secondo non è quello che pensi era un bullo ok prendi il mio potere sono fuori grazie primo vediamo cosa hai fatto si prendeva cura di sua madre wow è bello aveva poteri speciali anche questo è bello davvero grazie stava tirando i bambini nella bocca da erazione mangiava bambini grassi o no 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 male vai qui prossimo tipo verde ehi catturava e mangiava bambini era troppo alto e colpiva lo stipite della porta distruggeva tutti i giocattoli si innamorava di mamma gambe lunghe wow quest'ultimo strano davvero davvero era cieco quindi non mi vedi sì vai qui non posso metterti nel rosso ehi è rosso non vedo no dai ultimo il mio allenatore ciao per favore paradiso amava i cani era il più veloce del mondo rubava scarpe e ci metteva del tnt ehi è male mangiava i partecipanti per vincere nelle competizioni di corsa anche questo è male amava i giocattoli devo mandarti in paradiso grazie no ero cattivo tu sei il mio allenatore ma ero cattivo non farlo qui è il mio posto è stato triste ma l'ha fatto per il bene ciao amico aspetta qui figliolo vieni con me no ti creerò un nuovo account cominciamo questi occhi poi questa bocca la compro ha la testa guarda un amico viola wow questo è un completo devo comprarlo e la corona mettiamocelo per favore smetti sto cambiando a causa tua bene indossiamo le altre cose cambia la pelle del corpo ora sei perfetto vediamo oddio sembra un trentenne inquietante ora trovo una nuova famiglia sei un noob ehi smetti sei brutto mi vendicherò di te ehi vai via grazie di no ti prenderò ciao ragazzi sono tornata wait a minute cosa è stato orribile si si ma ehi ho visto tutto no non l'hai fatto dirò all'insegnante non so chi l'abbia fatto vieni qui torna sono arrabbiato ah sei bloccato no mi ha mangiato dieci anni dopo quindi chi vuoi prendere questo è brutto per favore li prendo evviva evviva nessuno mi vuole ho undici anni ti troveremo una nuova famiglia vieni siamo la famiglia del direttore oh wow non unirti a noi mettevano pressione al figlio per avere i voti migliori picchiandolo con un righello no ho preso un F cosa 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 smetti di picchiare questo ragazzo cacciavano i bambini da scuola per un brutto voto solo uno si avevano un problema con pisciare su un water chiuso aspetta cosa fratello hanno allagato l'intero bagno con acqua gialla a causa del loro problema mamma e papà si baciavano durante la lezione mentre tutti i bambini guardavano ti amo ti amo gli appuntamenti online sono brutti vogliono adottare l'amico viola e trasformarlo in un seccione non diventerò mai uno sfidato vieni qui no 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 smetti però da te il giorno dopo prossima famiglia A F B B insegnano a suo figlio l'alfabeto 24 su 7 mentre è stanco tenevano altre lettere dell'alfabeto in prigione aspetta cosa holy jesus what is that perchè li metti in galera perchè ci piace l'alfabeto facevano la cacca sul water senza aprirlo che diavolo che diavolo oddio è troppo non posso unirmi a voi mi sento solo e triste troverai la tua famiglia preoccuparti ok scommetto ciao sono spongebob oh my god mangiavano troppo non voglio mangiare così tan dovete hanno mangiato accidentalmente il loro bambino mi hanno mangiato il dottore ha detto loro che devono far uscire il loro bambino con la tacca e lo hanno fatto cagare fuori wow è stato bello vivevano sott'acqua ehi non riesco a respirare sott'acqua scusa ma non ti voglio agri siamo arrabbiati ho perso le ossa o prossima famiglia spero che sarà buona aveva cento figli contemporaneamente cosa? guarda troppo niente paura fratello è stato brutto rilassati sono solo cloni i suoi bambini lavoravano in fabbrica per lui vogliono fare un milione di bambini e conquistare il mondo sei una brutta persona non voglio essere adottato da te così mi vendicherò di te oh no ah facile questa è l'ultima famiglia o ti caccio va bene va bene wow penso che siano perfetti la mamma picchiava il papà cosa? vieni qui vecchio mio cosa? il papà piangeva sempre a causa di sua moglie e riempiva la casa di lacrime costringevano il loro bambino a spaventare gli altri bambini erano al verde perché avevano speso tutti i loro soldi alla lotteria no questa famiglia è tragica per favore l'ultima no sono senza casa questo esperimento è molto brutto è la tua fine a oh no chi sei? come iscriversi per ottenere robux gratis ti abbiamo salvato grazie mille agrr creerò un nuovo esperimento e uccidere ora ti trasformerò in amici amore 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 io essere alto o basso gambe o senza braccia braccio gambe ho perso le gambe cervello o faccia spaventosa entrambi wow zampe di cane bene dove sono? mi sento strano facciamo uno spavento ho paura puzzolento sto glicciando stridio o cane? stridio alto o grandi braccia? pomodoro glicciato e l'ultimo a pronto cinque anni dopo wow sono più grande bene ora vieni con me papà attraversa questo per aggiornarti al mio livello wow papà voglio essere come te dobbiamo prenderlo dobbiamo prenderlo andiamo va bene biciando hanno biciato la mia corsa che numero? rosa arancione o rosso? rosa sto biciando ho biciato ruote occhi o senza occhi ruote macchina due teste ho un collo lungo l'ultimo cacca wow wow sono potenziato sono tornato ma dove è mio padre? ah abbiamo preso tuo padre no devo avere più potere wow oh no sì no ho preso delle spine l grandi ciambella bello guarda quelle gambe guarda quelle gambe bello ora devo trovare mio padre 30 anni dopo ok ho trovato qualcosa sto entrando la mia famiglia ti ucciderò no sto chiamando la polizia stai chiamando la polizia? sei arrestato perché io? perché sei entrato in casa di qualcuno no ehi combatti con lui no 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 polizia aiuto va bene vieni con me grazie valutali per uscire di prigione oh non sono il giudice ma ci proverò stava cercando di evadere dalla prigione con un razzo aaaaaaah aaaaaaah era divertente ma anche brutto ha scavato un tunnel sotterraneo dove ha catturato ogni cattiva persona aspetta cosa non mi prenderete mai ehi turna sotto il suo vestito c'era un goblin che lo controllava quindi non è Buzz è un falso Buzz controllato da un goblin male oddio ok prossimo mangiava le persone che entravano dalle porte perchè l'hai fatto? ti sono spaventato guardava le persone attraverso le finestre delle porte con l'uomo dalla finestra aveva un bambino con l'uomo dalla finestra ciao fratello prossimo glu non ha amici oltre ai minion è triste usava i suoi amici per diventare il re della prigione e meno male i suoi amici si clonavano ogni giorno clonazione? si si ci stiamo clonando si ci stiamo clonando non di nuovo facile ok vai libero grazie bello ne restano solo due ha fatto la cacca nella doccia della prigione non faceva mai la doccia così le persone morivano per il suo odore cavalcava così tanto il suo cavallo che il cavallo sveniva sei una brutta persona mi dispiace no ok ultimo mangiava i membri della sua famiglia era davvero grassa ha un problema allo stomaco e vomita su ogni prigioniero dopo aver mangiato quando dorme fa la pipì e le persone che dormono sotto di lei si arrabbiano oh wow queste cose sono strane ma tu sei buona grazie ora posso uscire si si grazie 99 anni è passato molto tempo papà ti ha distrutto tutti sono così triste ehm vieni qui sono in paradiso per favore votami cosa posso valutare catturava i bambini e li trasformava in cose spaventose questo è brutto amico era in prigione 20 volte ha distrutto la vita e la famiglia dell'amico viola eri una brutta persona ah è la fine della mia vita felice ricorda di essere sempre positivo è ora lo porterò all'allenamento evviva salta oltre questo ok saltiamo principiante wow sono più forte wow ce la sto facendo vieni qui no ultimo salto fatto sono così forte dopo la radiografia sei a posto cosa mamma hai sentito quello ti sto rapendo torna indietro no aspetta dove sono questa è una gara wait a minute oh my god mio dio voglio tornare da mia madre 3 2 1 inizia wow sono più alto rick cos'è questo? ahhh sono più di ass O no! Così vicino! Rosa o pistola fratello! Cos'è quello? Ha 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 ha! Oh! 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 Smettila di sparare! Ha 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 ha! Le? 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 Oh my God! Le? 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 Wow wow! Le? Ah! Zombie! Impossibile! Scarte! Le mie gambe! What? L'ultima! Vado per primo! Mio dio! Wow! Scegli me! Scegli me! Scegli me! Scegli me! Scegli me! Scegli me! Oh mio dio! Scegli me! Scegli me! Lui è cattivo! Ti scelgo! Si! No! Wow! Dove siamo? Puoi aiutarmi a scegliere! Wow! Per favore buono! Fammi vedere cosa hai fatto! Hai hackerato molte persone! Aspetta! Questo è davvero brutto! Il prossimo! No no no! Stava picchiando il suo ragazzo! È vero tubers? Si! Mio dio! Smetti di mentire! Sei una cattiva persona! L'ultimo! Non riusciva a smettere di mentare! Ok! Questo non è male! Ma sei comunque cattivo! Ciao! No! Metti mi piace e iscriviti prima che quei robux spariscano dallo schermo! Oh ciao! Dove sono? Mostrami le tue azioni! Stava rapinando banche! Amico! Restituirò i soldi! È troppo tardi! Mostrami la prossima cosa! Amava Harley Quinn! Em! Va bene! Lo amo! Mio dio è bello! L'ultimo! Stava picchiando i più potenti! Em! Ero buono! Dammi i tuoi soldi! Ho hai cercato di aiutare! È una cosa buona! Adoro questo lavoro! L'ultimo il più difficile! Ah povero! Cosa sto facendo qui? È il giorno del giudizio! Ti pagherò! Faceva il bullo ai poveri Bacons! Fratello perché hai fatto questo! Amo i soldi! Prossimo! Stava scorreggiando addosso alle persone! È disgustoso! Mi dispiace! Ok! Non è male! L'ultimo! Non usciva perché era odiato dalle persone! Non è male! Eri triste! Vai qui! Ah! Gran giorno! Ok! Penso di poterti dare un'altra vita! Davvero? Un nuovo bambino! Mi hai adottato! Si! Mostrami le tue abilità! Questo è troppo grande! Sei debo! Bambini! Ho avuto! È stato così vicino! Perché mi trovo in questa situazione! Di notte! Prendiamo vendetta! Papà sta dormendo! Muscoli! Oh mio dio! Ecco il suo cervello! Odio questo bambino! Sta cercando di prendermi a calci! Distruggerò i suoi muscoli! Ah! Ho perso tutti i muscoli! Eventually! Il mio compleanno dammi i miei regali! Un libro! Per te! Wow! Sembro grassa per te! Il mio turno! Ho trovato un fiore! Per te mamma! Cattiva! Ehi controlla la tua altezza! Va bene va bene! Io per primo! No! Perché? Sei troppo piccolo! Mio dio è il mio turno! No 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 no! No per favore! Aiutami! Invio potere a bocca! Cosa? Come? Perché? Ah! Puoi andare! Ho potere! Non può essere così! Oh no! È il tuo momento! Sono bloccato! Sono bloccato! Fa male! Non è ancora finita! È abbastanza! È abbastanza! Devo sollevare! È difficile! Dargli poteri divini! Wow ho le mani! Ah! Funziona! Sembro fantastico! Ah! Lasciami provare il mio potere! Wow wow! Ho un potere incredibile! Cosa sta succedendo? Bulli? Fratello! Non sono tuo fratello! Qui è il tuo posto! Prigione! Per favore no! Per favore no! Ah! Cosa è appena successo? Wow! E si ricomincia! La persona che perde non torna mai indietro! Oh Jesus! Oh my God! Wow! Prossimo! E che? Ah! Cosa dovrei scegliere? Prossimo! Sei un principiante! Sto scegliendo i bene! È ora di giudicare! Catturava i criminali più ricercati! È fantastico! È stato licenziato dal lavoro! È stato licenziato! Oh no! Ma non è male! È stato arrestato e ha formato una gang! L'ultimo ha formato una gang LOL! Ma va bene! Chi è il prossimo? Figlio! Per favore ero buona! Mio dio! Mamma! Mai! Ciao! Ok! Ho finito il mio lavoro! Ti sto dando la prossima vita! Poliziotto Barry! È finita per te! Sei sicuro di questo? Sì! Andiamo! Guarda fino alla fine! Penso che sia ora! Ok! Quindi questo sarà l'amico Viola! Sono tornato con l'attrezzatura! Vedi questo! Ok grazie! Sento qualcosa! Wow! Sto nascendo! Ok! Devo scegliere! Denti affilati o condotti! Condotti! Mani corte o molto lunghe! Lunghe! Wow! Sono alto! Non va bene! Guardare dalla finestra o dai condotti! Condotti! Condotti o casa! Condotti! Ovviamente! Non sembro un bambino normale! Niente gambe o gambe lunghe! Niente gambe! Calvo! Cos'è questo bambino brutto? Mamma per favore! Smettila di dire così! Lo porterò per la ricerca! Ok! Mostrami le tue abilità! Ok! Ho l'opzione di saltare nel condotto! Wow! E ora posso afferrare le persone! Dov'è andato questo bambino? Bene! Primo amico pronto! Ora ne servono altri! Ok! Prossima famiglia! Rendi questo bambino più veloce! Ho bisogno di un lavoratore per la mia fattoria! Ciao! Sono il dottore! Prendi questa pozione! Ok! Ok! Devo scegliere corona o cappello! Corona! Wow! Alto o basso? Meglio alto! Intelligente o stupido? Intelligente! Wow! Essere blu o giallo? Blu al 100%! Grasso o magro? Grasso! Assassino o amichevole? 100% assassino! Ah! È fantastico! Spaventoso o essere spaventato? Spaventoso! Cosa diavolo? Ok! Usciamo di qui! Ah! Un altro bambino per la mia collezione! Cosa? Mi dispiace! Vieni piccolo! Deve lavorare per me 24 settimi! Blu mostrami le tue abilità! Va bene papà! Ti mostro! Dolcetto o scherzetto? Abilità di abbracciare! Wow! Sono spaventoso! Vedo! Prossimo amico arcobaleno! Prendi velocemente la sua nascita! Voglio mangiarlo! Aspetta cosa? Vogliono mangiare i bambini! Cosa vuoi? Prendi questo! Mamma cosa dovrei scegliere? Fiona o sembrare un dottore? Dottore! Figo! Testa grande o senza occhi? Testa grande! Cos'è quello? Sospetto o non sospetto? Sospetto! Oh no! Sono sospetto! Spaventoso o essere rosso? Spaventoso! Sono cattivo! Pello o occhi strani? Occhi! Mangiare dalla spazzatura o bullizzare i bambini! Latte! Voglio del latte! Ah! Eccoti qua! Vieni con me! Papà! Ho delle abilità speciali! Cosa? Wow! Solo altri due per il mio esperimento! Abbiamo un bambino meraviglioso! Che andiamo in prigione perché odio i bambini! Ok! Questa è la famiglia perfetta! Ciao! Sono il tuo dottore! Oh ciao! Bevi questo! Mangiare cervelli o essere piccolo? Cervelli! Essere arancione! Um! Non ho un bel aspetto! Va bene! Prossimo! Aggressivo o pacifico? Aggressivo! Posso volare! Iai! Faccia da gecko o piedi normali? Gecko! Mio dio! Sembro perfetto! Usciamo da qui! Cosa è questo? Papà! Fermati! Oddio fratello! Fermati! Sei brutto! MMM! Buon cibo! Vuoi essere mio papà? Sì! Hai un'ottima abilità! Grazie! Ma ne ho ancora una! Bello! Ne manca uno! Questa famiglia alta è perfetta! È ora! Vedi questo! Sono il dottore! Va bene! Lingua lunga! Lingua o Shrek? Lingua! La mia lingua! Mani sventolanti o mani semplici? Sventolanti! Le mie mani sventolano! Soldi o tre dita? Tre! Cos'è quello? Andiamo avanti! Verde o blu? Verde! Wow! Sembro fantastico! Ok abbiamo tutti i bambini! Metti mi piace e iscriviti prima dello spavento! Devo farti sembrare più grande! Ok papà! Prima i viola! Eh cosa sta succedendo qui? Andiamo! Wow! Funziona! Continuiamo! Prossimo! Ha rapito questi bambini! Non può essere così! 3... 2... 1... Ehi! Per favore lasciateci uscire! Ah! La tua pozione è nascosta! Non la troverai mai! Ragazzi venite con me! Usciremo da qui! Andiamo! Saltiamo velocemente! Sì! Saltate ragazzi! Ecco la prima pozione! Prendi questa! L'ho trovato! Wow! Sembri fantastico! Wow! Andiamo avanti! Ce l'ho fatta! Ok questo è pericoloso! Lui è lì! Arancione! Vai a prendere la tua pozione! Ecco qua! Tornate bambini! Veloce! Oh! Credo che qui ci sia la prossima pozione! Controllerò questo bagno! Troverò il prossimo! Apriamo questo! Sei fortunato! Ecco le pozioni finali! Prendi questa! Ok! Sembra! Perfetto! Usciamo da qui! Ok! Siamo scappati dalla prigione! È stato difficile ma possibile! Ho il loro indirizzo! Tempo di distruggere! Tutti voi andrete in prigione! Siamo chiusi di nuovo! Non può andare così papà! Non preoccuparti! Se usciremo prenderemo la prossima macchina ti distruggeremo il poliziotto! Tempo di valutazione! Cosa? Ah! Vediamo cosa hai fatto! È finito in prigione per aver usato i bambini per attaccare Barry il poliziotto! Aspetta cosa? Ragazzi! Attaccatelo! Questo è estremamente brutto! No! Per favore! È nato per essere l'amico arancione! Vuole evadere per diventare un mutante! Vuoi evadere? Sì! No! Prossima persona! Spaventava i bambini dalla nascita alla morte! Perché fai queste cose? Dai! Male! È stato mandato in prigione da Barry il poliziotto! Si è innamorato in prigione della ragazza di Barry il poliziotto! Ogre ha fallo in amore con la princesa! Cosa? Impossibile! Nanana! Oh ciao! Ehi! Ti piaccio! Sì! Baciami! Malissimo! 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 Lei lo ha aiutato a scappare e ora sono insieme! Cosa? Vieni veloce! Vieni veloce! Grazie! Andrà in prigione! Mi hai rubato la ragazza! Ah! Ce l'abbiamo fatta! Prossimo! Era troppo alto per questo mondo! Era così alto che la sua ragazza vedeva solo i suoi piedi! No! Stai mentendo! No! Non lo sono! Era così alto che le sue gambe si spezzavano sotto di lui! Sta cercando di evadere dalla prigione per avere la prossima evoluzione spaventosa! Prossima persona che vuole evadere! È brutto per me! Il prossimo! Non nasconderti! Ok! Chiedeva alle persone di dargli una mano e poi li afferrava nei condotti! Mostrami! Na na na! Questo non è giusto! Rosso! Cercava di mangiare ogni essere umano del pianeta! Oh no! Fermati! Ha iniziato a mangiare tutti e diventava grasso! Bene perché sono grasso anch'io! È esploso dopo aver mangiato ogni essere umano del pianeta! Rimani in prigione! È il mio turno! Sono stressato! Voi due siete cattivi! Cosa? No 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 no! Oddio! E siamo chiusi! Papà! Non può essere così! Se evaderemo avremo una nuova evoluzione! Ok! Fammi vedere! Ah! Posto segreto! Entra qui! Facile! Wow! Sei migliorato! Prossimo! Bello! Oddio! Guardalo! Prossimo! Verde oddio! Zombie! Arancione! Oddio cos'è quello? Ok! Penso che tutti siano usciti! Chiudiamolo! Ok! Andiamo a distruggere il poliziotto! Credo di aver dimenticato qualcosa! Ehi! E io? Poliziotto Barry! È finita per te! Sei sicuro di questo? Sì! Andiamo! Oh mio Dio! Ok! Chi abbiamo qui? Alcune persone strane! Lascia che li valuti! Voglio essere il primo! Ha mangiato così tanti bambini che è diventato grasso! Costruiva prigioni e ci metteva dentro bambini buoni che non avevano mai commesso crimini! Cosa? Era disgustoso e puzzava! Ok! Tutto mostra che sei una cattiva persona! Vai all'inferno! Cosa? No! Era un bravo bambino ma è diventato un mutante a causa del rosso! Quando aveva incubi, iniziava a crescere! Voleva mostrare il suo vero volto adesso! Aspetta! Il vero volto! Sì! Sembro così! Lanky Box! Ok! Ma devo comunque metterti tra i cattivi! No! Prossimo! Poteva correre attraverso il pianeta in meno di uno secondo! Voleva mostrare il suo volto anche lui! Il suo volto fu distrutto perché cadde da una scogliera! Ok! Mostrami il tuo vero volto! Wow! Bel volto! Vai dal bravo bambino! Prossimo! Dopo l'evoluzione è diventato super aggressivo! Era il migliore amico di Pennywise! Sotto la sua maschera c'è una persona bellissima! Ok! Sembra brutto! Vai al rosso! Ultimo! Faceva finta di essere un giocattolo nell'asilo! What? Era sempre il mostro più grasso del mondo! Voleva mostrare il suo volto ma aveva capelli molto lunghi! Ok! Non è male! Vai in paradiso! Ok! Quindi ho finito per oggi! Ricorda di essere sempre buono e non mangiare i bambini a… Bambini questo è il miglior parco giochi dell'universo! Venite a giocare! È molto sicuro! Il nostro parco giochi è un grande fallimento edilizio! Guardate! Dobbiamo fermarlo! Non vi ascolterò! Ah! È ora di cambiare alcuni bambini! Il giorno successivo nella vita degli amici dell'arcobaleno! Devo scivolare su di esso! Stesso! Prima controlla la tua altezza! Perché questi bambini sono andati di senza! Non fare domande stupide! Sono il primo! O no! Non preoccuparti! Vai! Sei carina! Grazie! Spero di essere carina anch'io! No! Non lo sei! Vai sullo scivolo per bambini! Forse qui troverò degli amici! Amiamo Fortnite! Amiamo Fortnite! Amiamo Fortnite! Tempo per lo scivolo! Ho paura! OMG cosa è appena successo? Non scivolare! Cosa? Oh my god! Oh jeep! Oh my god! Oh jeep! Ehi! Fermati! Qualcosa sta prendendo i bambini! Cosa? Cosa? OMG! questo parco giochi non è normale! Ehi! Uscite tutti da questo parco giochi! È infestato! Cosa? Correte subito! Sicurezza! Portatelo via! Cosa? Vai via ragazzo! Cosa? OMG! Esci! Secondo tentativo! Dot mi ringrazia per questa voce fuori campo! Ok! Sono travestito! Ciao! Controlla la tua altezza! Ok! Nessun problema! Signore! Oh! Sono così vicino! Vai via noob! Sei troppo piccolo! No! Secondo tentativo! Devo entrare! Cos'è questo posto? Fammi entrare in questo posto! Si! Forza! Scivola più veloce! Ok! Noob! Aspetta! Morirai! A bambino! Non può essere così! Ragazzi! Smettetela subito! A perdente! Hai paura di scivolare? Facile! Aspetta! Cosa? Non mi schioderò mai da questo! Stai perdendo nella nostra battaglia? Mai! Wow! Questo scivolo mi ha fatto diventare alto! E' magico! Cosa? Come? Ora giocherai al mio gioco! Ah! Ok! Facciamo un torneo! La prossima diapositiva è questa! Per 10 dollari! Voglio 10 dollari! Puoi andare! Cosa? E' appena morto! Signore! Chi ha fatto questo scivolo? Non posso dire! E' troppo buono! E' il mio turno! Sei troppo piccolo! Ah! Ah! Una! La prossima diapositiva è per 1000 dollari e si trova in paradiso! Cosa? Siamo in paradiso? È 100 volte più alto del precedente! Wow! Prima io! Fermarsi! Controllare l'altezza! Ok lo farò! Puoi andare! Non mi sento così bene! Il mio turno! Il mio turno! Cosa? Il mio turno! Entrambi non potete andare! Devo arrivare più in alto prima di mia sorella! Aspetta! Cos'è questo? Saltami addosso! Wow! Sono diventata più alta! Ora su di me! Ok! Ah! Andiamo! Arriverò a questo scivolo! Come faccio a diventare più alto? Guarda dietro di te! Andiamo! Facile! Sparali! Prossimo salto! Andiamo! Non puoi vincere! Ok! Il prossimo è sospetto! L'ho fatto! Ah! Andiamo! E l'ultimo salto! Grande salto! Sì! Sei tornato? Sì! Sei a posto? Sì! Sto bene anch'io! Ok! Ora puoi scivolare! Ho paura! Vai! Guardate e abbonatevi o questo tizio sarà nel vostro bagno! Non rischiate! Ma sono vivo! Sì! Anch'io sono bravo! Ok! No! Come fai ad essere vivo? Aspetta! Sei stato rosso per tutto il tempo? Chiamo la polizia! È ora di valutare questi criminali! Volevo solo far ridere i bambini! Catturava le persone nel suo parco giochi dell'orrore aggiungendo delle lame alla fine dello scivolo! Ti sto dando un brutto voto! Era il criminale più pericoloso! Più di Jeff l'assassino! Aspetta cosa! Oh no! Jeff! Cattivo! Ha costruito una base segreta sotto il parco giochi! Dov'è? Fammi vedere! Ha catturato un amico viola e lo stava maltrattando! Non è possibile! È vero? Sì! Vai in prigione per il resto della tua vita! Ah, ora è il momento di controllare tutti coloro che hanno costruito questo parco giochi! Mi ha costretto a farlo! Ha preso i bambini dopo essere scivolati sul parco giochi! Quindi questo è il tuo posto? Sì! Balloon! Wow! Funziona! Male! La sua famiglia era in ostaggio e lui doveva fare il suo lavoro altrimenti l'amico rosso li avrebbe distrutti! Non è possibile che abbia la tua famiglia! Sì! Per favore fateci uscire! Per favore! Non è una cosa negativa! Mi dispiace tanto! Divenne estremamente triste e pianse tutti i giorni dopo che l'amico rosso lo catturò! No! Non puoi perdere i tuoi colori! Non arrenderti! Bene! Ok! Ti lascerò uscire! Ma dimmi come sei diventato viola! E molto molto triste! Ehi! No! Dove è andato? Aspettare! Ciao Giorgie! Ciao! Vieni qui! Cosa stai facendo? Lasciami in pace! Ti trasformerò in un amico viola! No! Ora ti lascio qui! No no no! Cento anni dopo! Sono passati cento anni! Devo uscire da qui! Corri ragazzo! Meriti di essere libero! Ne sono rimasti solo due! Perché stavi lavorando su quegli scivoli? Ho cercato di fermarlo! Era un costruttore del parco giochi e sapeva che era pericoloso! Stava cercando di fermare l'amico rosso ma l'ha trasformato in questo! Ok! Queste due cose sono sufficienti! Darti un sì! Grazie! La sua famiglia lo odia dopo che è andato in prigione! Ok! Ti meriti di essere libero amico mio! Vai! Grazie! L'ultimo! Famiglia dell'amico rosso! Era il mio ragazzo! Non io! Stavano aiutando l'amico rosso a prendere i bambini al parco giochi! Oh wow! Il ragazzo era estremamente cattivo come suo padre! Quindi ha cresciuto questo bambino perché fosse cattivo come lui! Ah! Smettila! Rosso! Oh no! Sono diventati tristi dopo essere finiti in prigione! Meritate di essere tristi! No! Vai in prigione! Per favore! No! È stata una giornata molto produttiva! Yono! Sono felice che il rosso sia andato in prigione! Riprendiamo il nostro torneo! Non so se è sicuro ma costa 10.000 dollari! Oh mio dio! Chi l'ha costruito? Non è possibile! Non so nulla di questo scivolo! Chi ha costruito questo? Ah! È stato facile! La mia schiena! Oh mio dio! Non è sicuro ma devo farlo! Chi l'ha messo qui? Sì! Ma l'abbiamo fatto! È il momento delle ultime scivolate! La prossima scivolata è troppo pericolosa per te noob! È per me! Mai! Oh mio dio! Forse è così! Vogliamo scivolare? Andare! Aspetta! Chi stava facendo questi scivoli? Non sembra sicuro! Scivolare! Ho paura! Oh no! Guarda! È stato distrutto! Non scivolo da questo! Ti arrendi! Ok! Ok! Fallo prima! Facile! Non mi sento così bene! Oh mio dio! Non so se è viva! Ma fammi provare! Sono ancora vivo! Ok! La prossima diapositiva è super pericolosa! Solo L1% sopravvive su questo scivolo! Ok! Vado io per primo! Andiamo! Ce l'ho fatta! Oh mio dio! Non posso crederti! Ok! Tocca a me! Jenna! No! È morta! Perché abbiamo iniziato tutto questo? Aspetta! Non riesco a vedere! Ti unirai a lei! Sì! No! Sono morta anch'io! Oh mio dio! Dove sono? Dimmi! Sei morto! Ora devi votare queste persone per tornare sulla terra! Chi è il primo? Adamo! Sì! Stava diventando troppo forte! Ah! Smetti di sollevare! Sei troppo grande! Male! Ha fatto il braccio di ferro con un superman! Oh my god! E chi ha vinto? Oh mio dio! Ok! Ho capito chi ha vinto! Ma il combattimento è brutto! Rosso! Aveva il potere di cambiare il suo corpo! Wow! Che figata! Ma comunque non puoi essere bravo! Il prossimo! Io sono Benten! Wow ho guardato il tuo show quando ero giovane! Buono! Si trasformava in un mostro diverso ogni volta che toccava l'orologio! Aspetta! Questo orologio? Sì! Questa evoluzione è strana! Unne lasciami cambiare! Che cos'è? Il suo orologio si è guastato e lo ha trasformato accidentalmente in PB! Era bloccato nel corpo di PB per tutta la vita! Ok! Non sei una persona cattiva! Vai verso il bene! Aveva cento figli e mancava il poliziotto! Aspetta cosa? Cento? Questo è mio figlio! Ah! Questo è troppo figli! Amava mangiare le ciambelle! Lo adoro! Non posso biasimarti! Voleva distruggere il paradiso! Smettila di distruggere il paradiso! Stai andando male! Ah! È stato facile! Il prossimo! F padre stava picchiando F figlio! Oh no! Non mi piace! Perché? Papà fermati! OMG hai visto questo? Brutto! Stavano mangiando alfabeto a cena! Anche questo è brutto! Mamma e figlio avevano paura del padre perché si arrabbiava molto velocemente! Non meriti il paradiso! Andate via! Grazie! Ok sono tornato sulla terra ma ora devo vendicarmi! Ehi! So che sei stato tu a fare tutto questo! Ah! Ah! Facciamo l'accordo! Quale accordo? M certo! Scivola qui! Se perdi andrai in prigione per sempre! Ma se perdo io potrai trasformarmi in un amico arcobaleno! Affare! Figlio prova prima! Ho paura! Ehi! Troppo veloce! Non è sopravvissuto! Il tuo turno! Cosa? Ai! Ce l'ho fatta! OMG! Ora controlliamo come lo fa Red! Come ha fatto! Tocca a me! Andiamo! È esploso! Così Bluecaven sta tornando alla normalità! Ah! Sarete tutti cambiati! Prima tu Dog Day! Ora Miss Delight! E ora Cutnab! E per essere più realistici dovete infrangere tutte le regole del parco giochi! Prima devi spaventarmi con un jumpscare! Ok! Andiamo! I tuoi jumpscare sono terribili! È il mio turno per denti! Ok! Ragazzi! Dobbiamo entrare e ho un'idea! Scaviamo! Andare! Possiamo entrare ora! Evviva! Siamo dentro! Aspetta! Credo che abbiamo infranto una delle regole! Stiamo per essere aggiornati! Wow! Siamo più realisti! La prossima regola è... Niente creature sui denti! Oh mio Dio! Cos'è quello? No 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 no! Evviva! Abbiamo infranto la regola! E ora stiamo ricevendo un aggiornamento! Oh mio Dio! Non si arriva dal lato sbagliato dello scivolo! Ok ragazzi! Dobbiamo andare da questo lato! Ragazzi! Non credo che sia una buona idea! Perdenza! Ragazzi! Dove siamo? C'è qualcosa dietro di noi! Cosa? Oh mio Dio! No! No! Sgoa è stato super spaventoso! Prossima regola! Niente pacchi Amazon! Ehi! Ho dei pacchetti per te! Ok ragazzi! Vediamo cosa c'è dentro! Aspetta! Cos'è? Oh no! È l'incubo di Ubiwagi! Ci sentiamo aggiornati! La vita è un dolore! Ma abbiamo un altro aggiornamento! La prossima regola è non usare il gas di Katnab! Ah! Questo sarà facile! Ok! Sono pronto! Mettiamo un po' di gas dentro! Aspetta! Cosa stai facendo? Fermate! Jessica ti amo! Aspettate! Cosa stat facendo? Un'altra regola è stata infranta! La prossima regola è... Niente jumpscare! Ah! La mia prima vittima! Aggiornamento! Sono così bello! Non è pronto per questo! Il prossimo aggiornamento! Bello! Ok! Vedo una persona laggiù! Prendiamolo! Ah! Facile! Wow! Sono meraviglioso! La prossima regola è di non far scivolare più persone contemporaneamente! Ok! Facciamolo! 3, 2, 1, vai! Ragazzi siamo rimasti bloccati! Questo parco giochi è così bello! Diamo un'occhiata a questo scivolo! Cosa? Aspetta ragazzo no no no! La prossima regola è che non si può stare in piedi e scivolare! Andiamo! Ok! Sono qui in piedi! Il mio ultimo hamburger era così buono che sto per scivolare! Aspetta! No! No! Siamo rimasti entrambi bloccati! Aspetta! Cos'è questo suono? Oh no! Credo di dover scoreggiare! Oh mio dio! Per favore no! Cutnap perché hai un odore così cattivo! Non importa! Ma abbiamo un altro aggiornamento! Ok! Ragazzi! Tenetevi pronti! Oh mio dio! Siamo ancora più spaventosi! La prossima regola è di non mostrare le facce della vita reale! Ok! Vediamo tutte le loro facce nella vita reale! Prima cutnap! Cosa? Interessante! Prossimo pollo! Peter Griffin! Strano! Ora creatura rossa! Non c'è modo! Ora elefante! Reale! Incubo Ugiwaki! Quello che sapevo! Unicorno! Fratello! Il prossimo dog day! Ha senso! E l'ultimo! Che diavolo! Brr! È tempo di aggiornamenti! Aspetta! Perché non abbiamo avuto un aggiornamento? Penso che dobbiamo infrangere altre regole! Non si canta! Cantiamo! Non ce la faccio più! Fermati! Finalmente! Evviva! Facciamo una festa! Vi state divertendo senza di me? No! Ma la prossima regola è stata infranta! Andiamo! Ma ancora niente upgrade! Penso che dobbiamo infrangere un'altra regola! La prossima regola è non mangiare creature sorridenti! Aspetta! Non siamo creature sorridenti? Non mi interessa! Sto per scoreggiare! Per favore! No no no! Regola infranta! La prossima regola è non scavare! Scaviamo una buca! Aspetta! Cos'è? Giorno del cane? Comunque regola infranta! Finalmente posso sentire la prossima evoluzione! Wow ragazzi! Siamo davvero fantastici! Evviva! La prossima regola è non uccidere le persone! Aspetta! Cosa significa? Cosa? Siamo morti? Quello è Dio! Sì! Sono Dio! Cosa ci fai qui? Non vi lascerò ancora morire! Ragazzi! Questo è strano! La prossima regola! Niente cacca! Facciamolo! Sono pronto! Che diavolo è questo? Non ce la faccio più! Sono un amministratore delegato del libro dei record del mondo e penso che qui abbiamo un record del mondo! Oh mio Dio! Non è possibile! Dio! Sento la prossima evoluzione! Sembriamo più realistici! La prossima regola è che non ci sono gatti da incubo! Ok! Tiriamolo fuori! È spaventoso! Ma dobbiamo liberarlo! Che diavolo! No! 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 Ce l'abbiamo fatta! Ma aspetta! OMG è cibo quello! Cosa? È stato terribile! Ma la regola è stata infranta! Qual è la prossima regola di Katna? La prossima regola è non alterare! Chi è questo? OMG è così sexy! Ehi ragazza! Oh mio Dio! Sì! Perché devo guardare questo? Oh mamma! Wow bambini guardate qui c'è il vostro papà! Aspetta! Dov'è tuo padre? Mamma mamma! Dov'è papà? Non ce la faccio più! Katnab! Cosa stai facendo? Ok! Ragazzi! Stiamo per avere la prossima evoluzione! Wow! Aspetta! Perché non c'è un aggiornamento per me? Penso che dobbiamo infrangere la prossima regola! Ok! Ma qual è la prossima regola? Niente gambe lunghe! Ok! Ho un'idea! Prendete questo! Vedo la nostra vittima! Mamma gambe lunghe vieni qui! Abbiamo del buon succo fresco per te! Per me? Prendine ancora! Aiutatemi ragazzi! Non mi sento bene! Cosa abbiamo fatto? Hanno quasi infranto tutte le regole! Aspetta! Che diavolo è questo? No 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 no! Questo è brutto! Non toccatemi più! Ok! La prossima regola è non guardare la tv! Che bella tv! Non credo sia una buona idea guardare questa tv! Non mi interessa! Wow questo film è fantastico! Che succede? Cosa? Questa tv è così maledetta! Qual è la prossima regola? Niente gravidanza! Oh mio dio! Credo che avrò un bambino! Spingi ragazza! Spingi più forte che puoi! Aspetta! Questi sono mostri? Andiamo! Finalmente sentiamo il prossimo aggiornamento! Wow! Infrangiamo altre regole! Niente trolling nelle bocchette di ventilazione! Penso che possiamo entrare! Oh Ugi Uagi sei così carino! Cosa sono questi rumori? Devo vedere! Cosa state facendo? Dog Day non è come sembra! Perché le donne del giorno del cane? Non ce la faccio più! Sono ancora traumatizzato! Non preoccuparti! Dog Day è il momento della prossima regola! Non sono ammesse persone belle! Quindi penso che dobbiamo migliorare il nostro aspetto! Sì! Abbiamo un aspetto terribile! Iniziamo la trasformazione! Vediamo ora! Dog Day è diventato Gigachad! E io sono diventato gorilla! Ok! La prossima regola è... Niente fan club! Non abbiamo nessun fan club! Ma credo di conoscere qualcuno! Cutnab ho bisogno del tuo aiuto! Che succede? Ho bisogno che tu chiami il tuo fan club! Oh no! Ma va bene! Cutnab! Cutnab! Oh mio dio! Stanno arrivando! È così divertente! No! Fermati! Lasciatemi in pace ragazze! Cutnab è morto! Oh no! Ma aspetta! Miss Delizia! Oh no! La prossima regola è... Ragazzi! Ho dei regali per voi! Oh mio dio! Dove sono? Venite con me! Wow! Aspetta! Cosa stai facendo? I gattini sono proibiti! Il gattino lo attacca! Buon gattino! La prossima regola è non usare il grab pack! Devo chiamare il mio amico! Qualcuno mi ha chiamato! È il momento della corsa veloce! Regola in fronte! Per favore no! La prossima regola è il divieto di usare il braccio prototipo Ok, ragazzi, dobbiamo trovarlo Potrebbe essere qui Ehi, ciao Ciao, ciao Oh mio dio, cutnab Stringiamoci la mano La prossima regola è niente pipì OMG, andiamo Dog Day, penso che questo sia troppo Oh sì, 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 è così bello Grazie a Dio Ew Oh no, ci sto affogando dentro Finalmente ho finito Miss Delight Ma la regola è stata infranta La prossima regola è che il pavimento non è lava Cosa? Il pavimento è di lava Dog Day salta veloce Wops Che cos'è? Chi ha fatto questo? Era un Dog Day Cosa? Tu piccolo Ah, la prossima regola è che non ci sono persone grasse È ora di mangiare come un nicocado Oh mio dio, sembra delizioso Oh no, è troppo pesante Troppo pesante per questo mondo La prossima regola è che non ci si può togliere i vestiti di Miss Delight Cosa? Non voglio farlo, ma devo farlo Oddio, i miei occhi Non voglio vedere questo, fratello La prossima regola è non valutare i jumpscares Per infrangere la prossima regola devi votare tutti i personaggi di Poppy Playtime di tutti i capitoli Ok, facciamolo Prima Smiling Critters Non spaventoso Il prossimo Migliore Giallo Elefante Ora gattino Unicorno Bello Ora verde Giorno del cane Questo è stato spaventoso Miss Delight Ai, dog day del cane per mio fratello Ai, incubo wuki Wow, tempo di cutnap Sto morendo Incubo cutnap time Wow, cos'è questa cosa? È il momento del secondo capitolo Gatto Giocatore Onzo Bunny Cat B Questo è stato così spaventoso Boxy Boo Mommy Long Legs Spaventoso Girasole Che diavolo Ora daddy long legs Spaventoso anche lui Dino Non spaventoso Paga a pilla Questo era spaventoso Robo Ora Poppy Illuminato Tempo di Ugi Wapi La mia testa sta tremando Bentornato dog day Ho infranto la regola Ma abbiamo il prossimo aggiornamento Yai Wow, sono fantastico Ho un aspetto fantastico Vediamo la grande regola finale da infrangere Niente bomba openheimer Penso di essere pronto Guarda qui Aspetta no 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 Fermati 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 È troppo tardi Lei è nella mia casa Impossibile Mi dispiace Volevo baciarti Aspetta Non sono bambalena Hai sbagliato persona Hai sbagliato persona Abbiamo bisogno di bambalena Cosa sta succedendo? È la mia casa Devo andarci Oddio Cosa sta succedendo qui? Bambalena bevi questo Ah No mai Dammi quello No Ora esploderò Oddio Cosa è successo qui? Perché tutti sono bambalena? Questa persona ci ha cambiato E ora devi scoprire quale bambalena è reale Bamban Quale pensi sia la tua ragazza? Questo Posso sentirlo Non credo Era Stinky Joel L'hai baciato Quindi abbiamo ancora 10 bambalenas Ora dobbiamo controllare le vostre voci Prima bambalena Wow Bellissima Prossimo E ricordati che le risposte sbagliate saranno punite molto duramente Ok Non sospetto Prossimo Ciao Dove ti stai nascondendo? Per favore Fa male Sono forte Um Non suona esattamente come bambalena Ma va bene Prossimo Ascolta Se riesci a sentire quello che sto dicendo Fai un cenno a qualsiasi telecamera Cosa? Voce maschile Sei un sospetto Prossimo Quindi ci incontriamo di nuovo Dove sono i miei figli? Prossimo Sto venendo in questo posto e poi mi viene ricordato che tutto per cui sto lottando vale tutto lo spazio e la sofferenza Sospetto Sospetto Prossimo Mi ha portato in bagno Questo era strano Prossimo Piacere di conoscerti Un Penso che tu sia malato Prossimo Sei stato uno studente cattivo Bene Bene Ultimi due Cosa? Ok Questo è Opila Ma l'ultimo Ok Questo sembra normale Quindi tu Stai uscendo Avevo ragione Sono rimaste solo nove bambalena Quindi ora devo controllare i vostri spaventi Numero uno Ok Bene Prossimo Non male Sembra reale Ok Questa persona era sospetta prima Attaccami Dove pensi di andare? Wow Era come bambalenas Non sei più un sospetto Prossimo Aia la mia testa Era reale Prossimo Ora tu Cosa era quello? Non è bambalena Fai di nuovo Il secondo era reale Prossimo La mia testa Ma era uno spavento molto sospetto Prossimo Di nuovo Oh fratello Perché hai lo spavento di Nab Nab? Perché il dottore ha cambiato il mio cervello Sospetto Prossimo Unme Spavento incredibile Mi piace Mi piace Mi piace Sei reale Prossimo Cosa era quello? Cosa era quello? Lo spavento di Fiddles Sospetto Prossimo Tu lo sai Aia Perché lo spavento di Bambam? Oh Ho appena cliccato il pulsante sbagliato Era ancora Bambam Stai venendo eliminato Ah Era Bambam Ops Ok Prossima categoria Disegnati ora Ok fatto Non sono bravo a disegnare Facile Non un bel disegno Prossimo Non il migliore ma ok Prossimo Wow Prossimo Wow Buono Prossimo Brutto Sei un sospetto Prossimo Um Perché c'è un Stinger Flynn? Cosa? Umme nulla Strano Prossimo Buono Wow Hai dipinto un modello 3D E l'ultimo Um Scerifo Che diavolo Mi dispiace ma stai venendo eliminato Ciao ciao Ah Avevo ragione Non ne restano molti Prossimo devi disegnare la tua cotta Facile Mostrami Oh I o Bambam Prossimo Bene Ok prossimo Cosa? Figo Prossimo Bambino ma Bambam Quindi ok Prossimo Bambam malvagio Bene Questa è la mia cotta Aspetta Cosa è questo? Umme E tu? Looks kind of suspect Ragazzi siete sospetti da ora Ma ora Bambalena era molto forte quindi colpisce questo muro Oh Oh my god Non è il migliore Prossimo Oh my god Quello blu Bambalena era molto meglio Prossimo Quello rosso Lasciami pensare Meglio del precedente Viola e arancione Perché questo? Viola molto bene Ma arancione Questo è brutto No 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 Ne restano tre Facciamolo Dai Siete al sicuro ragazzi Mi dispiace fratello ma sei falso Per favore no Stinger Flynn Quindi ne restano solo sette Ok Quindi ora ho una domanda Quando Jambo Josh ti ha colpito e afferrato Dove sei andato? La risposta corretta è nella stanza su andate Je ne suis pas dué porre de sa Umme siamo andati a un appuntamento Stavamo bevendo caffè Per favore lasciami in pace Wow Mi chiedo dove l'ha portata Sembra reale Ok quindi ora tu Lo stesso Data Ok Lasciami pensare Mi ha portato per l'operazione E voleva cambiarmi Ah È ora di cambiarti Ah perfetto Un strano Ok tu Mi ha portato a Umme In prigione Cosa? Non credo sia corretto Ok tu Data Prossimo Mi ha portato fuori per un appuntamento Ok tu Mi ha portato in bagno Cosa? Metti like e iscriviti o Bambalena sarà nel tuo bagno Fratello sei un sospetto E l'ultimo Sì Ok non riesco ancora a scegliere chi uccidere Quindi ora Bambalena era molto veloce Benvenuti al torneo finale Siete pronti? Sì Sì Wow È così veloce Prossimo E prossimo E prossimo Ok Vediamo chi ha vinto Bravo Sei stato veloce E aspetta Perché ne manca uno? Mio dio Mi dispiace ma devo ucciderti Ciao Lumaca seline Bambalena era intelligente Quindi ora risolvi questo quesito Vieni Una mela più una mela equivale a? Due mele Hai ragione Bene Prossimo Pomodoro più acqua equivale a? Zuppa di pomodoro Hai ragione Sei legittimo Prossimo Aereo meno carburante per auto equivale a boom Wow Sei così intelligente Prossimo È così facile È zuppa di pomodoro No Cosa? Assassino più coltello equivale a morto Non sei bambalena Ciao Zolfius Non bene ma abbiamo solo 5 bambalene rimaste Ok Quindi disegnati e poi diventa quello Tu per primo Fatto Wow Sembra bambalena Ok Quindi ora per il prossimo Facile fratello Aspetta Cosa è questo? Sei un sospetto Ok Dopo un sospetto il prossimo Andiamo Bambalena più nab nab Molto strano Ma ok Ora tu Cosa è questo? Zolfius più bambalena Prossimo Facciamolo Cosa è questo? Fratello Stai ricevendo una spilletta di sospetto Quindi ora bevi questa pozione e vedremo la tua forma mutata Mostrerà chi è reale e chi no Vado per primo Potresti essere bambalena Ok Quindi il prossimo Questa pozione l'ha eliminata? Fratello Ok Quindi il prossimo Grande prossimo Mio dio Questo è sospetto Hai il corpo di nab nab Quindi il prossimo Questo è falso Era Coach Pickles Mi dispiace Ok Quindi abbiamo solo 4 bambalene Ok Quindi ora ragazzi voglio vedere cosa avete fatto nella vostra vita Cominciando con il primo Lei era super forte Perché sei così forte? Ah sono sempre stato così Ok Questo era corretto Bambalena è forte Prossimo La radiografia mostra che all'interno del costume di bambalena ci sono 2 persone Ok Ora vediamo cosa c'è dentro di te Cosa? 2 persone Ok Questo è sospetto 2 persone sono in pigster Lei ha ucciso bambam perché era con nab nab lena Ok Bambalena potrebbe essere gelosa di bambam È corretto Lei era innamorata di pigster Aspetta Tutto questo mi dice che sei un pigster Avevo ragione Ah Ne restano solo 3 Lei è stata morsa da bambanni poi ha perso la mano È vero e corretto Prossimo Lei era ultra intelligente e ha risolto un milione di problemi matematici Questo è il problema matematico più difficile del mondo 2 più 2 4 Mio dio Sono così intelligente Sei intelligente come bambalena Era molto lenta come una lumaca Era come una lumaca quando camminava Mostrami come cammini Mio dio È la cosa di lumaca serine Strano Prossimo Lei puzzava Bella cena bambalena Non mi sento così bene Oddio cosa? Mio dio Sì è vero Tutti amavano bambalena Aveva dei bambini con bambam Mostrameli Wow sono dolci Sono dolci È stata colpita da Jambo Josh Tutte le cose qui sono corrette Ma ora passiamo alla prossima categoria Ora devi costruire la tua statua Il migliore equivale a vincere Ti sto chiudendo e aspettando i risultati 5 ore dopo Ok vediamo i risultati 1 Non male Prossimo Cosa è questo? Non è bambalena Mi dispiace Sospetto E l'ultimo Wow 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 Perfetto Mi dispiace ma stai uscendo dalla competizione Jambo Josh Mio dio Ok Quindi sono due bambalene rimaste Vediamo cosa hai fatto Lei attaccava le persone ma queste schivavano il suo attacco Sembrava un ragno con un sacco di denti È anche il ruolo di nab nab Fratello Era un maschio Aspetta Bambalena è una femmina Non un maschio Ok Sai cosa Sei falso Impossibile Nab nab Ok Quindi questa è la vera bambalena Iai Sì Finalmente mi hai trovato Ciao Sì Ciao